Marco, Sabaton è anche il tempo di assestarsi in difesa con il tuo ingresso e passaggio alla difesa a 5 di fatto che è arrivato il pareggio di Faraoni. Forse sono stati quei secondi un po' concitati. Erano dei minuti in cui stavamo soffrendo e sfortunatamente abbiamo preso il gol. Però poi penso che abbiamo reagito bene, non siamo riusciti a vincerla, però comunque c'è stata una reazione e questa dobbiamo portarcela per la prossima partita. Una reazione nel finale che si è vista, parecchie volte il Pescara è andato vicino a vincerla. Questa partita c'è un po' di rammarico, forse per quella reazione poteva esserci qualche minuto prima. Sì, il rammarico c'è sempre perché comunque quando non vinci e potevi vincere non sei mai felice. Però io credo che la prestazione è stata più che buona perché abbiamo approcciato bene la partita e abbiamo fatto un bel gol su una ripartenza e poi comunque abbiamo avuto delle occasioni per segnare anche il secondo. Quindi diciamo che siamo una squadra viva e ora mancano ancora due partite e quindi daremo il massimo. Il campionato è ancora in essere, però i playoff sono ad un passo. Un po' state studiando quelle che potrebbero essere le potenziali avversarie? No, io credo che noi dobbiamo studiare noi stessi e arrivare più in alto possibile. Poi la posizione di classifica diciamo che comunque ci avvantaggerà, lo sappiamo tutti, quindi noi dobbiamo cercare di arrivare il più in alto possibile. Sarà un primo maggio, festa dei lavoratori, in cui il Pescara si siederà sul divano e si godrà le altre squadre? No, la festa dei lavoratori la faremo a fine giugno quando ci riposeremo. Noi dobbiamo lavorare per preparare la partita con il Venezia, quindi non dobbiamo riposare, dobbiamo stare sul pezzo e prepararla molto bene perché sarà una partita difficile. Ecco, in vista degli eventuali playoff è chiaro che questa è una squadra che sta testando la gamba perché poi ci sarà l'appendice. A che punto è a livello di gamba il Pescara secondo te? In queste ultime settimane abbiamo, tra virgolette, abbiamo iniziato a lavorare duramente perché comunque sappiamo che dobbiamo prepararci a un finale di stagione in cui per fare delle belle partite dobbiamo stare meglio degli altri, quindi noi ci stiamo impegnando, stiamo lavorando duramente e speriamo di essere pronti perché comunque troveremo squadre molto preparate. Per quanto ti riguarda personalmente tantissima concorrenza dalle tue parti, Gravillon, Campagnaro, poi Scognamiglio, adesso anche l'esplosione se vogliamo di Bettella. Marco Berrotta come la vive questa situazione? No, è normale che comunque non posso dire di essere felice se non gioco, però comunque diciamo che la concorrenza fa bene perché ci permette a tutti di allenarci al massimo e di mettere in difficoltà il misto nelle scelte, quindi spero che continueremo così anche negli altri ruoli perché comunque porterà sicuramente la squadra a un livello superiore. Non rompere il ritmo perché è vero che c'è un turno di campionato, ma di fatto si passa da una settimana all'altra, non rompere il ritmo e presentarsi già sabato a Venezia è un vantaggio. Sicuramente sì perché comunque ci dà tempo per preparare e riposare un po' più degli altri, quindi dobbiamo stare sul pezzo perché comunque manca veramente poco e sarebbe davvero un dispiacere mollare in questo momento del campionato, quindi io mi auguro tutto il bene del Pescara e speriamo di arrivare pronti per questo finale di stagione. Ecco, nei finali di stagione Marco Berrotto ogni tanto qualche gol lo ha riservato, ti ricordi quattro anni fa, quanto daresti per segnare un gol decisivo a Venezia o contro la Salernitana o magari chissà anche play-off? Sicuramente è una cosa che vorrei tanto, però sarei contento anche se segnassi qualche mio compagno e vinceremo lo stesso. Quindi... Grazie.